Buonasera, benvenute e benvenuti al TG6. In apertura i numeri dell'emergenza sanitaria sono 5 nuovi casi di positività registrati in Abruzzo su 536 tamponi effettuati nelle scorse 24 ore. Ad oggi i positivi al Covid dall'inizio dell'emergenza sono 3.570. Stefano Recanati. Nel bollettino giornaliero diramato dall'assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo salgono a 3.570 i casi di positività al Covid-19 registrati dall'inizio dell'emergenza. Infatti rispetto a ieri si registrano 5 nuovi casi, uno dei quali trasferito dalla Regione Lazio e riferito al Giovani di Pescara trovato positivo ieri al test eseguito all'aeroporto di Fiumicino. Mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2.840 dimessi guariti più 2 rispetto a ieri. Ad oggi gli attualmente positivi in Abruzzo sono 258 con un incremento di 3 unità rispetto a ieri. 27 pazienti, numero che resta invariato rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, così come per la terapia intensiva che conta al momento un solo ricoverato. Mentre gli altri 230 più 3 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asle. Del totale dei casi positivi 305 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila. 886 in provincia di Chieti, 1654 in provincia di Pescara più 1 rispetto a ieri, 696 in provincia di Termo più 4 rispetto a ieri. 28 si trovano fuori regione e 1 per il quale sono in corso verifiche sulla provenienza. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 141.741 test. E proseguono all'aeroporto d'Abruzzo di Pescara i controlli con tamponi rapidi per i passeggeri in arrivo da paesi considerati a rischio. L'aeroporto d'Abruzzo infatti è collegato con Spagna e Malta. Il servizio è di Paolo Renzetti. I tamponi sono per i passeggeri in arrivo da Malta, Bucarest e Girona come da disposizioni del Ministero della Sanità. C'è stata un'ordinanza del Ministro e naturalmente ripetuta e confermata dalla regione Abruzzo. Quindi questi tre voli quando arrivano i passeggeri vengono sottoposti a tampone dall'ASL competenti di Chieti in questo momento o anche di Pescara tramite il comitato della salute pubblica abruzzese che è diretto dal dottor Albani, in questo momento dalla dottoressa Dentino. Con la collaborazione della protezione civile e delle forze dell'ordine noi facciamo scendere i passeggeri e una volta ritirati i bagagli i passeggeri incolonnati in distanza di sicurezza vengono mandati a riempire delle schede in cui danno le loro generalità, numero di telefono eccetera e poi un'organizzazione mobile del 118 gli fa il tampone all'esterno dell'aeroporto raccomandando ovviamente di stare in casa quelle 24-48 ore necessarie per avere l'esito del tampone stesso sul cellulare o via email. Sta accadendo quello che forse si pensava potesse succedere, molti turisti che avevano acquistato un biglietto aereo per alcune destinazioni non ci sono presentati in aeroporto? Beh sì, diciamo che queste tre località al momento appaiono a un rischio quantomeno superiore a tutte le altre piuttosto consistente e quindi la prudenza magari fa decidere a delle famiglie, a dei gruppi di turisti, a qualcuno di non partire anche rimettendoci qualche decina di Euro per i biglietti, mi pare una ragionevole misura di prudenza che naturalmente è valutata da ognuno con la propria coscienza e la propria libertà. Quello che sta accadendo Presidente, in prospettiva che cosa significa per l'aeroporto d'Abruzzo? Noi lavoriamo per far viaggiare tutti in sicurezza e di questo i passeggeri, gli abruzzesi possono essere tranquilli. L'aeroporto è nella massima sicurezza sanitaria e nel massimo controllo, qui vengono applicate tutte le misure e forse qualcuna di più, come addirittura la sanificazione dei bagagli in partenza e in arrivo che abbiamo adottato da oggi. Noi importiamo mascherine obbligatorie, abbiamo distanza di sicurezza, abbiamo percorsi separati, sanificazione, chi arriva qui sta tranquillo. Poi è chiaro che chi arriva in un altro posto o in un altro stato o in un'altra destinazione e purtroppo trova lì o per fortuna le regole di quel posto, di quella destinazione, di quello stato e lì non valgono certo né quelle italiane né quelle dell'aeroporto d'Abruzzo. Per cui raccomandiamo a tutti di andare in posti presumibilmente sicuri e comunque di mantenere le misure che il governo italiano ha deciso perché poi alla fine dei conti, come tutti stanno vedendo nel mondo, noi alla fine della festa siamo i più seri di tutti. Dopo la Cina sicuramente l'Italia è il paese in cui il rigore sulle misure è stato maggiore e se ne vedono risultati positivi perché pur nella ripresa dei contagi sicuramente la nostra è inferiore a quella degli altri. E' un po' di preoccupazione a Lanciano dove il sindaco Mario Pupillo ha fatto il punto della situazione sui numeri del contagio nella sua città e sulla rimodulazione delle feste di settembre. Lanciano ha 5 cittadini contagiati dal virus e 30 in quarantena. Ovviamente questo numero può modificarsi, sono in corso altri tamponi, ma quello che voglio sottolineare è che il virus c'è ancora, lo abbiamo sempre detto e ribadito, soprattutto c'è una modifica in quella che è la contagiosità e la positività. Tutto questo sta determinando anche da parte nostra delle valutazioni sui grandi eventi, in particolare sulle feste di settembre, giovedì faremo una comunicazione ufficiale, ma già sapete che il dono non si farà, non si faranno gli spari. E' tutto quello che è assembramento fondamentale e favorevole alla diffusione del virus. Stiamo valutando il tutto con tranquillità, ma anche con rapidità, perché questa settimana è quella determinante, per ridisegnare un po' quelli che sono gli eventi del settembre lancianese, che ovviamente non è il settembre lancianese, non si chiamerà così perché abbiamo già, come avete saputo, spostato i due concerti più importanti nello stadio Biondi di Lanciano, proprio perché lì abbiamo la sicurezza di essere condincentati e quindi il distanziamento e c'è una situazione statica e non dinamica, come invece si può stare nelle giostre, nelle manifestazioni come la fiera del giocattolo di Sant'Egidio. A meno di un mese dalla riapertura delle scuole, la CISL Scuola Abruzzo Molise torna nuovamente a denunciare l'aumento del precariato in Abruzzo, che rischia di mettere in seria difficoltà la gestione dell'anno scolastico. Problemi anche per quanto riguarda la fornitura dei nuovi banchi monoposto, di cui si parla molto nelle ultime settimane, indetta dal commissario straordinario per fronteggiare l'emergenza Covid. Intanto il ministro dell'istruzione, Azzolina, invita le istituzioni a collaborare per una riapertura in sicurezza. Vediamo la situazione nel servizio. La scuola si appresta a riaprire i battenti dopo la chiusura anticipata a causa del Covid-19, ma le incertezze sono ancora tante. A denunciare fortemente il boom del precariato nella nostra regione è la CISL Scuola Abruzzo Molise, per il quale a settembre la scuola abruzzese dovrà reclutare oltre 4.000 precari, tra docenti e personale ATA, per garantire così la riapertura delle scuole. È assolutamente scandaloso, commenta la CISL Scuola, come il ministero dell'istruzione abbia sinora autorizzato 1.165 assunzioni a tempo indeterminato nella scuola abruzzese e nella realtà sarà possibile farne solo 631. Infatti ben 534 assunzioni a tempo indeterminato non saranno possibili a causa del mancato svolgimento dei concorsi e per l'esaurimento delle gradatorie provinciali costituite nel lontano 2006 e mai sostituite da altri meccanismi che garantiscono la stabilità del personale. Beffa, ma al contrario invece per quanto riguarda il personale ATA. Qui infatti ci sono gli aspiranti, ci sono i posti, ma non vengono autorizzate le assunzioni. Infatti su 550 posti vacanti si fanno appena 211 assunzioni a tempo indeterminato. Numeri questi necessari al sistema scuola al di là dell'attuale emergenza sanitaria. Dunque alle 339 assunzioni a tempo indeterminato non fatte e quindi da coprire con i precari si aggiungono i 360 posti in deroga già aggiunti dall'ufficio scolastico regionale abruzzese. A questi dati si aggiungono anche le supplenze docenti e ATA per l'emergenza Covid. Infatti le scuole abruzzesi hanno già chiesto 1.050 docenti e 900 ATA ma ad oggi la copertura economica permetterà l'autorizzazione del 50% delle risorse umane richieste. Poi c'è l'incertezza sui nuovi banchi scolastici. Le scuole abruzzesi hanno già fatto richiesta di 9.000 postazioni innovative, 2.400 banchi monoposto e 18.000 sedie ma ad oggi non c'è certezza sulle consegne di questi nuovi materiali visto che non ci sono comunicazioni ufficiali per poter avviare la produzione. Ad affermarlo Giancarlo Spadaccini di Aula 3.0 una delle ditte che hanno risposto alla gara indetta per la fornitura di banchi monoposti. Pur volendo avviare una piccola produzione oggi non potremmo cominciare a consegnare prima di ottobre. Tutto questo fa da contrasto alla lettera inviata in mattinata proprio dal ministro per l'istruzione Lucia Zolina al presidente del Lancio Antonio De Caro e al presidente del Lupi Michele De Pascale. Nella lettera il ministro ha ribadito come la riapertura delle scuole a settembre sia un obiettivo primario condiviso da tutto il governo ma che richiede la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell'ambito delle rispettive competenze. Un ultimo e decisivo sforzo a collaborare con i dirigenti scolastici e gli uffici scolastici regionali nell'ambito dei tavoli regionali. Torniamo ora a parlare della fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore. Il presidente del Consiglio Comunale di Pescara, Marcello Antonelli, ha chiesto ai sindaci di accelerare la nascita della nuova Pescara rimarcando il fatto che Montesilvano e Spoltore rallentano il progetto di fusione. Piccata la risposta del primo cittadino di Spoltore, Dilorito. Vediamo qual è. Dilorito, il presidente del Consiglio Comunale di Pescara, Marcello Antonelli, invita ad accelerare sulla nuova Pescara, lo ha fatto inviando una lettera ai sindaci dei tre comuni, però da più parti si continua a ribadire che Montesilvano e Spoltore stanno cercando di rallentare questo processo che sembra irreversibile. Lei cosa risponde? Credo che il periodo ferragostano abbia bagliato il presidente Antonelli che ha un ruolo preciso all'interno della legge regionale, lui ha un ruolo preciso di dover fare. I comuni di Spoltore, posso parlare anche a nome del comune di Montesilvano, non hanno astrocolato nulla, tant'è vero che noi siamo sempre stati a disposizione. In realtà viene fuori che oggi al 18 agosto 2020, quando la nuova Pescara deve entrare in funzione come nuova città, tra poco meno di un anno e mezzo, non è stato fatto nulla e questo dimostra che questo progetto, che diciamo da sempre è un progetto vuoto, che non ha le gambe per camminare, ma non perché Spoltore ostacola, che non ha ostacolato, anzi lo invito al presidente a dire in quali occasioni, perché sarebbe stato corretto dire in quali occasioni Spoltore e Montesilvano hanno ostacolato. Non c'è assolutamente quello, noi siamo a disposizione di questo processo, ci adoperiamo, ma in realtà ci adoperiamo perché non ci adoperiamo, perché non c'è nulla da fare, è una legge che non permette di fare se non tra dieci anni, questa è la realtà dei fatti. Quindi siamo certi che noi stiamo rispettando la legge regionale e forse lui dal suo ruolo che la legge gli impone dovrebbe fare qualcosina in più. Quindi adesso secondo il sindaco di Spoltore, che tra l'altro non si potrà ricandidare, che cosa potrà accadere secondo lei di loro? Ma io credo che questa legge debba essere comunque rinviata, perché al primo di gennaio 2022 non siamo pronti, ma è chiaro che non siamo pronti. Però se il presidente Antonelli, se Pescara dice che noi stiamo fermando, noi possiamo come Consiglio Comunale invocare, noi lo possiamo, il commissariamento, far partire, non far prorogare di due anni al 2024 il processo di fusione, ma farlo partire da subito e ci pensiamo a questa ipotesi, così ci togliamo, noi finiamo la consigliatura nel tempo debito e forse Marcello Antonelli e il Comune di Pescara finiranno anzitempo il loro mandato. Se questo è l'approccio con cui ci si muove all'interno della legge, io credo che sia stata un'uscita infelice dello stimato amico Marcello Antonelli. Andiamo nella Marsica, nell'ambito del nuovo piano per la videosorveglianza della città, 5 telecamere del Comune di Avezzano rientreranno nel sistema targhe del Ministero dell'Interno, scopriamo di cosa si tratta. Avezzano farà parte di un progetto pilota, saranno installate nuove telecamere, 5 delle quali rientreranno nel sistema nazionale targhe del Ministero dell'Interno. In totale saranno posizionati 60 nuovi occhi elettronici, che saranno installati nell'arco di 3 anni. Queste si vanno ad aggiungere alle 60 già presenti sul territorio comunale. Il piano di implementazione della videosorveglianza cittadina è stato approvato recentemente. Si è trattato di un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto direttamente da Sua Eccellenza il Prefetto, che ha approvato il piano di implementazione della videosorveglianza cittadina. Grazie a questa nuova aggiunta delle nostre 65 telecamere di videosorveglianza sparse in tutta la città, se ne andranno ad aggiungere altre 60 in modo tale da arrivare a un numero complessivo a fine progetto di circa 125-130 telecamere su tutto il territorio, di cui 5 autorizzati in via del tutto, siamo una delle poche città campioni in tutta Italia, scelta per collegare queste telecamere al sistema nazionale delle targhe del Ministero dell'Interno. Un sistema a valenza nazionale in grado di tracciare gli spostamenti sul territorio di targhe segnalate come sospette. Quando saranno installate queste telecamere? Il piano di installazione delle telecamere si svilupperà su tre annualità, anche per ragioni di bilancio, quindi verranno circa installate una ventina di telecamere da quest'anno fino ai prossimi tre anni. Noi avremo la gestione del sistema, la legge attribuisce alla polizia locale la competenza a trattare delle immagini. E questa sera a Francavilla al mare saranno sparati fuochi d'artificio per la festa del patrono San Franco. I giochi pirotecnici partiranno da 26 postazioni diverse lungo la costa per evitare assembramenti e scansare le polemiche dei giorni scorsi. Il Covid non ferma le feste di San Franco, i fuochi pirotecnici di Francavilla tra le manifestazioni più grandi del centro-sud Italia. Sindaco, tante le misure di sicurezza, ma ci saranno regolarmente i fuochi questa sera. Da 26 punti lungo la costa di Francavilla verranno fatti esplodere questi fuochi di artificio. Sì, in verità sarà un fuoco Covid, non potevamo fare il fuoco tradizionale, lo sparo dal pontile classico che avrebbe creato assembramenti, però noi riteniamo che la vita non si debba fermare di fronte alle difficoltà, bisogna trovare nuovi modi per andare avanti e questo nuovo modo lo abbiamo trovato cambiando il fuoco tradizionale. Non si sparerà solo dal pontile, ma si spareranno fuochi molto più modesti, che dureranno una decina di minuti, ma che avranno la caratteristica di essere sparati su tutta la costa di Francavilla al mare, che è lunga 7 km circa. Quindi ci sarà un punto di sparo sulla spiaggia ogni 300 metri. In sostanza, siccome non possiamo fare assembramenti e siccome non possiamo consentire che le persone vadano verso i fuochi, noi avviciniamo i fuochi alle persone, così salviamo la tradizione e festeggiamo il nostro patrono. Lei nelle ultime ore, Sindaco, è stato costretto, lo dico tra virgolette, a sperare che questa sera non ci sia tantissima gente a Francavilla, proprio per, la sua è stata una provocazione ovviamente per evitare assembramenti anche lungo le strade laterali della riviera. Intanto non c'è nessun motivo per creare assembramento nella zona centrale, quindi mi riferisco a Piazza Sirena, perché non è da lì che si spareranno i fuochi. I fuochi si spareranno dal confine con Ortona al confine con Pescara. Ognuno li potrà vedere davanti a sé, come ho detto saranno fuochi di modeste dimensioni, quindi non immaginiamo di attirare persone da fuori Francavilla, perché dureranno solo una decina di minuti. Molti si stanno organizzando addirittura per vederli dalla collina, dalle varie colline che ci sono nell'entroterra dove si potranno vedere interi tratti di costa. Ho disposto con ordinanza l'obbligo della mascherina sul lungomare Aldomoro e sul lungomare Nord dalle 22 alle 2 di notte, anticipando anche quella che è stata la decisione del Ministro Speranza, quindi stiamo attuando tutte le misure di sicurezza, ma su tutto vince il buonsenso delle persone, il buonsenso delle persone che devono capire che bisogna andare avanti, bisogna essere in grado di sconfiggere il Covid continuando una vita normale. Presentata questa mattina la 38esima edizione dello Spoltore Ensemble, diverse le novità e che il messo spoltorese all'insegna anche ovviamente della sicurezza sanitaria. La 38esima edizione dello Spoltore Ensemble sarà un'edizione ridotta, ma ancora una volta con grandi nomi. Diceva anche il Sindaco in conferenza stampa, non abbiamo voluto interrompere questo appuntamento che dura da 38 anni. Sì, un atto di coraggio, di determinazione è importante perché è un'estate in cui sembrava non dovesse succedere niente, sembrava che l'industria dello spettacolo dal vivo, della cultura dovesse fermarsi. In realtà la determinazione di alcuni soggetti, tra cui lo Spoltore Ensemble, ha permesso che l'attività ripartisse e quindi ci fosse questo appuntamento con la formazione culturale delle persone e con lo spettacolo. Quindi una edizione molto importante, la 38esima è la mia 14esima edizione, quindi riprendo dopo qualche anno di pausa un festival che avevo diretto per 13 anni, un'edizione più contenuta dal punto di vista delle serate, ma che è una base dalla quale ripartire per rilanciare poi il prossimo anno i momenti che speriamo siano migliori di quelli che ci hanno visto all'opera quest'anno. Naturalmente è il 23 questo spettacolo di Claudio Bisio e Gigio Alberti, dedicato alla felicità, è uno spettacolo che io ho fortemente voluto per due motivi, innanzitutto perché è un'esclusiva regionale, è uno spettacolo molto poco visto in Italia, quindi poche repliche, spettacolo quindi molto particolare già per questo motivo. Poi mi è piaciuto molto il fatto che il tema dello spettacolo fosse la felicità, che è un tema straordinariamente importante al quale hanno dedicato attenzione filosofi, politici, artisti e quindi mi sembrava altamente simbolico caratterizzare questo festival dedicandolo a questo tema della felicità. Il giorno precedente invece abbiamo un'altra chicca che è la presentazione dell'ultimo album, l'ultimo lavoro di Umberto Palazzo, che è uno dei rocker più importanti che abbiamo in Italia, con il suo Santo Niente negli anni 90, è stato agli apici della produzione che allora si chiamava Indie. Quindi è un personaggio, un musicista importante, un intellettuale della musica che aprirà il festival con una chiacchierata con il giornalista Paolo Talanca. Poi la serata mi vede impegnato anche come musicista con il mio gruppo dei Medit Voices che è dedicato un po' alla formazione dei giovani. Siamo così giunti alla pagina dello sport che apriamo con la Serie B, ospite ieri sera della trasmissione Replay di Enrico Rocchi e il direttore tecnico del Pescara, Giorgio Repetto, che torna sull'esultanza per la salvezza, l'importanza della permanenza in Serie B e conferma la sua preferenza per la conferma di Andrea Sottil, quale tecnico della prossima stagione in questo il tema caldo di questi giorni. Comunque sia, la decisione del nuovo allenatore sarà presa a breve. Ascoltiamolo. Io ti devo dire la verità, non sono mai stato, io mi sono rivista adesso, non l'avevo rivista prima, mi sono rivista ora e veramente... Veramente, ma ero sballato completamente perché era veramente uscire... Una maratona, tre ore... No, ma poi uscire dalla B e venire fuori con i rigori, rimanere in Serie B, non mettere... Onestamente, devo dire anche a livello personale, a me la faccia su una retrocessione mi rompeva proprio le palle da morire, diventavo matto. Ho gioito molto di più di quando abbiamo vinto il campionato anche da calciatore, è brutto parlare di soldi, ma tra rimanere in B e scendere in C c'è una differenza di 8 milioni almeno, tra i 4 che perdi di contributo il primo anno e l'anno dopo perdi proprio tutto e come diceva l'amico mio, tra averli e non averli è il dopo. È più facile ripartire con Sottil che prendere un allenatore che questa squadra non la conosce. Ma io la penso come te, per me è più semplice ripartire da uno che è stato qui fino a ieri, insomma. Su Pilon e Massimo, Oddo, a me non ti posso dire niente che non vada bene. È legato tutti e due. Abbiamo lavorato benissimo insieme, c'è stima anche personale, al di là del calcio e via dicendo, ci vogliamo bene, io Pilon lo sento sempre, l'ho chiamato, non nasconto perché quando Zauri è andata alle dimissioni io ho la telefonata a Pilon, l'ho fatta, ma se non è arrivato allora credo che sia difficile che arrivi adesso, mi sembra ovvio. Per Massimo non lo so perché poi ha un contratto con il Perugia, noi lo spareggio l'abbiamo fatto contro il Perugia, io non lo so se sia una pista in questo momento praticabile. Caserta? Caserta è un allenatore bravo, ha fatto molto bene l'anno scorso, quest'anno ha fatto benissimo fino a che non c'è stato il lockdown, poi la squadra ha fatto un po' come la Lazio, non ha ripetuto i risultati che stava facendo in quel momento. Possiamo dare dei tempi, quando deciderete sull'allenatore, entro una settimana? No, presto che è tardi, come ti dici? Penso in questi giorni, non lo so. Non credo che sia, tempi lunghi no di sicuro. Qualsiasi c'è travanti buono può essere abbinato come profilo al Pescara, voglio dire, Iemmello è un giocatore del Benevento con un ingaggio molto pesante, quindi non lo so. Certo ha fatto meglio Melchiorri in queste partite. Melchiorri ha fatto benissimo, la Zappa io credo che sia impossibile che resti, vuol dire che non vanno a vedere partite, se non vanno a vedere partite allora Pescara avrà Zappa l'anno prossimo, se le squadre di Serie A hanno un minimo di osservatori lo prendono. Colpo di scena a Teramo, da ieri Cetteo Di Mascio non è più l'allenatore della prima squadra, per lui è previsto il ritorno nel settore giovanile, scatta così a pochi giorni dalla preparazione il toto allenatore. Il Teramo Calcio a pochi giorni dal raduno per il campionato di Serie C è nuovamente alla ricerca dell'allenatore della prima squadra. Infatti nelle scorse ore Cetteo Di Mascio, che aveva guidato il diavolo dopo l'esonero di Bruno Tedino nella scorsa stagione, non sarà più l'allenatore e di comune accordo tra le parti tornerà a ricoprire il ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile. Stesso percorso per il suo vice Marco Stella, che siederà sulla panchina della Bretti. A comunicarlo un po' a sorpresa nella giornata di ieri, proprio la società Biancorossa, con una nota apparsa sul proprio sito internet, il quale ha annunciato anche la risoluzione contrattuale con il preparatore atletico Giuseppe Puleo, così come fatto qualche giorno fa con il match Analyst al Cile di Salvatore. Il ritorno di Cetteo Di Mascio nelle giovanili apre così il toto allenatore per la nuova stagione. Il nuovo profilo a questo punto molto probabilmente sarà un giovane di prospettiva, formatosi in Serie D o addirittura alla prima esperienza come allenatore e soprattutto con un ingaggio non molto elevato. Tutto questo per cercare di agginare gli elevati costi affrontati nella stagione 2019-2020, con un occhio al contenzioso che porterà la società alla probabile condanna e di conseguenza al pagamento degli stipendi Covid. Stessa situazione per il parco calciatori, l'obiettivo anche qui è sfoltire la rosa, principalmente tra i più esperti e dal contratto elevato come gli attaccanti Cianci e Martiniago, oltre i centrocampisti Arrigoni, Ilari e Costa Ferrera. Intanto l'ex Bruno Tedino, dopo aver trovato l'accordo per la rescissione del contratto con il Teramo, ha trovato l'accordo che lo legherà per i prossimi due anni alla Virtus Entella in Serie B. In Serie D, alla vigilia della partenza per il ritiro del notaresco, il centrocampista Mattia Frulla suona la carica per la prossima stagione e dice vogliamo migliorarci rispetto a quanto di buono fatto lo scorso anno. Andrea Costantini. Conto alla rovescia per la partenza del ritiro del notaresco, mentre proseguono i test propedeutici al Savini, giovedì squadra e staff tecnico si trasferiranno a Isola del Gran Sasso dove inizieranno la preparazione vera e propria. Tra i leader del gruppo c'è il centrocampista Mattia Frulla, uno dei reduci della scorsa stagione, quando con la maglia rosso-blu ha collezionato 23 presenze con 5 reti realizzate prima che la pandemia decretasse la fine anticipata della stagione, mandando in fumo il sogno di una promozione in Serie C. Frulla che ritrova diversi compagni di squadra, non solo dello scorso anno, ma anche quelli di campionati precedenti quando ha indossato altre divise. Sono stato contento, ritrovo qualche compagno dell'anno scorso quindi mi fa felice doppiamente perché l'anno scorso è stato fatto un bel lavoro, speriamo di continuare anche quest'anno. C'è ramarico per come si è chiusa la scorsa stagione? Sì, molto ramarico perché si è perso purtroppo per circostanze superiori a noi, quindi c'è molto molto ramarico. Sì, allora diciamo che ritrovo Dos Santos, Banegas, Shiba che ci ho giocato insieme, rispettivamente Triestina e Giulianova e con gli altri invece ci ho giocato contro, quindi conosco super giù le caratteristiche che hanno, sarà molto più facile integrarsi insomma. L'obiettivo è quello di restare competitivi nel girone e possibilmente migliorarsi. Il pensiero è quello di dare continuità a quello che si è fatto l'anno scorso, quindi cercare di far bene tutte le partite è quella strada da fare, cerchiamo di dare il massimo, cerchiamo di dare continuità a quello che si è fatto il lavoro dell'anno scorso per migliorarsi quest'anno. E questa era l'ultima notizia, tutti quanti i nostri servizi se vorrete potrete rivederli sul canale YouTube della nostra emittente e sul sito www.tv6.it. L'informazione torna alle 23, grazie per averci seguito, buona serata. Grazie.